e questa è solo la prima delle casse immagino abbiate già indovinato cosa c'è dentro ma la tradizione vuole che si faccia un unboxing quindi vediamo se sono riuscito a tagliare le copertine probabilmente no sono finalmente arrivati queste sono le prime copie di scrivi la tua avventura dai giochi di ruolo all'avventura in solitario che è il libro che sono oramai mesi che sto dicendo di aver scritto insieme a Mauro Longo alla fine sono venute 752 pagine non credo lo vedete comunque 750 pagine di tutto quello che vi serve sapere dalla scrittura delle regole per un gioco di ruolo alla scrittura delle avventure per un gioco di ruolo e questa è l'edizione speciale c'è anche il logo sulla copertina perché è la stampa fisica con la sovracopertina che è l'edizione che potete prendere a lucca in realtà dovete preordinarla e la tiratura iniziale era di 100 copie poi sono arrivati così tanti ordini che abbiamo dovuto incrementarla a 200 però oramai dovrebbero essere rimaste una ventina vi lascio in descrizione del video il link se volete prenotarla riceverla poi direttamente a mano a lucca vi spiegherò poi nei video prima di lucca come ottenerla fisicamente se no dopo lucca andrà in edizione digitale ovviamente con il print on demand però non sarà più l'edizione speciale lo dico perché il mondo nerd è pieno di collezionisti a cui gli piacciono queste cose sono veramente euforico perché questo tecnicamente il primo oggetto di merchandise per quanto riguarda il canale del master k e in realtà è il primo letteralmente il primo libro che pubblico a nome mio quindi è una cosa che un traguardo personale mettiamola così niente semplicemente video per condividere con voi il mio entusiasmo ci vediamo sul canale prossimamente ci vedremo di persona a lucca con quelli che dovranno venire a ritirarsela per questo video è tutto io sono il master kai